Giovedì, giorno? Giovedì Davvero Giacomo? Giovedì è giorno rosso? Bravissimi Dove andiamo? In Gita Dove? A Fede Bravo Nicolò Il paese dove andiamo in biblioteca è? Orzinuomi Anche il paese di quale scuola? Di Giuseppe Quale? Della? Di Giuseppe Sì, ma noi che scuola siamo però? Di Giuseppe Ok, e come si chiama la nostra scuola? Infanzia Brava Giulia, la scuola dell'infanzia? La Caffarello Bravo Giacomo E come si chiama la nostra Santa? Sì I bambini della Santa Elisabetta Cerlioni Giovedì vanno in? Sì Dove? Dove andiamo giovedì? Alla biblioteca Bravo Federico E cosa c'è in biblioteca Federico? Bravissimi Bravissimi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.